Allora, lei mi fa finire. No, allora, finisco il suo intervento e poi daremo la possibilità al vice sindaco di rispondere. Prego, collega. Perché, caro collega Mario Rodriguens, se il sottoscritto parla è perché ha coniezione di caos. Perché c'è un'altra sentenza della Cassazione che dice, la numero 47562 del 2016, che dare del cretino a un assessore, a un sindaco, non è più reato. Come potrebbe essere invece reato di diffamazione quello che il vice sindaco, nelle sedute precedenti, che mi sono riservato di andare a rileggere e andare a riguardarmi, fare delle affermazioni sulla professione e sulla qualità e qualifica di una professione potrebbe essere reato di diffamazione. E io ad oggi sono contento perché le posso dire cretino senza che faccia un reato, non commetto un reato, perché lei è un cretino. E lo sa perché lei è un cretino? Perché non lo penso solo io. La pensa la maggior parte degli abitanti di Marsala. Quando prendono la macchina perché conoscono il loro territorio e vanno a vedere che le discariche abusive aumentano sempre più e lei viene qua a prenderci in giro dicendo che tutto va bene. E anzi che la raccolta differenziata aumenta. Siamo al 60%. Collega, collega, collega.